Sindaco, allora eletto alla guida di Guglionesi una vittoria anche sul filo di lana, una vittoria particolarmente importante anche perché ha vinto sulla lista del Movimento 5 Stelle, un movimento che ha fatto manbassa le politiche, ha recuperato molti consensi anche alle regionali, lei è riuscito a vincere su questa lista, sul Movimento 5 Stelle, le sue prime sensazioni? Le prime soddisfazioni sono di grande soddisfazione certamente, però farei un distinguo, i 5 Stelle vanno forti un po' dappertutto, però nelle piccole realtà conta più il contatto umano, le persone si conoscono e quindi certi meccanismi, certe logiche saltano e subentra la conoscenza personale delle persone, tant'è che sì, sul filo di lana ma con 5 liste prendere più di 100 voti di scarto di differenza insomma non mi sembra pochissimo. Il suo primissimo atto, nel senso che sicuramente ci saranno tanti progetti da mettere in cantiere e da realizzare, ma i suoi primissimi atti? Il mio primissimo atto, come dicevo in campagna elettorale, sarà quello del dimezzamento delle internità comunali, del 50%, quindi avremo un risparmio di oltre 40 mila euro ogni anno, questo è il mio primo atto. Un po' un atto che ricalca però un po' quello che è il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Questo appunto per dire che a livello locale le dinamiche cambiano e poi certi obiettivi non sono ad esclusivo e pannaggio di quella o di quell'altra lista o di quel simbolo, se sono cose giuste da farsi come l'abbattimento dei costi della politica, questo appartiene a tutti. Sindaco, il territorio di Guglionesi è stato attenzionato in passato anche per una questione molto importante che è quella della tutela dell'ambiente. Qui ci sono delle discariche, Guglionesi 1 e l'altro sito, che hanno destato molta preoccupazione in passato e la preoccupazione di certo non si è placata neppure oggi. Ecco, quali saranno le sue iniziative in merito? Anche perché dobbiamo dire che le patologie tumorali in questa zona sono anche abbastanza frequenti. Uno dei nostri punti, dei nostri obiettivi principali del programma, oltre che la partecipazione, la trasparenza, è proprio l'ambiente. Quindi attenzioneremo con particolare forza l'ambiente, approfondiremo questi temi e noi siamo per un registro dei tumori che è assolutamente necessario. Se ne parla da anni, da decenni, ma mai è stato fatto. Questo sarà sicuramente uno dei nostri principali obiettivi. Ecco, altri obiettivi, altre iniziative? Altre iniziative? Intanto prendiamo atto di quello che ci lascia l'amministrazione uscente. Avremo qualche giorno di tempo per formare l'aggiunta, per presentare al prossimo Consiglio Comunale. Abbiamo tante cose da fare, ma prima di tutto dobbiamo conoscere i reali problemi dell'amministrazione e poi poter fare le nostre scelte seguendo le priorità del caso. Grazie.